Accendersi! Eccolo! Il nostro Ray-Con! Un totale c'è! Ciao a tutti, nel tutorial di oggi vi aiuterò a gestire una situazione imbarazzante che sarà sicuramente capitata a tutti voi. Siamo ad una festa e si avvicina a voi qualcuno che sembra conoscervi molto bene ma voi non sapete assolutamente chi sia. Se lui salutandovi scandisce il vostro nome, voi rispondete con un generico Ciao caro! E poi con la velocità del fulmine bruciate ogni tipo di iniziativa del tizio. E fate voi la prima domanda. Ah, ciao! Senti, che combini di bello! A questo punto riceverete una serie di informazioni che potrebbero far luce sull'identità del tipo. Ma se questa mossa non vi aiuta affatto, passate a un'altra mossa. La domanda da fare è questa. Quando è stata l'ultima volta che ci siamo visti? Ma attenzione, per non insospettire il tizio, va fatta in questo modo. Ma quando è stata l'ultima volta che ci siamo visti? Perché detta troppo interrogativa e abbandonando l'espressione di felicità per l'incontro verrebbe più o meno così. Quando è stata l'ultima volta che ci siamo visti? Tono completamente sbagliato, che produrrebbe immediatamente la seguente reazione. Ma tu hai capito che so? Questo determina una inevitabile figura di merda. È anche l'ammissione di aver fatto finta di riconoscerlo. Sconfitta totale. Se neanche dopo aver saputo dove siete visti l'ultima volta riuscite ad identificare il tipo, simulate un attacco di dissenteria scappato in bagno. Ciao a tutti. Al prossimo tutorial. Grazie al nostro Lillo.